Selfie è un divano dalla personalità giovane e grintosa, con una linea che sembra quella di un'auto sportiva, ovviamente italiana. E infatti, per esaltarla al meglio, abbiamo scelto una livrea in pelle, effetto nabo, color giallo intenso, a cui fanno da contrapunto i piedi a slitta in finitura a titanio, un abbinamento degno di una Lamborghini. Il nome Selfie omaggia questa sua bellezza esuberante, un po' vanitosa, la sua voglia di mostrarsi. Per restare in tema di motori, sulla versione tre posti ce ne sono ben due. Un doppio motore che permette a ciascuna seduta di utilizzare in modo indipendente la funzione di recliner di spagliera e poggia a piedi per offrire un comfort personalizzato e su misura. E adesso Michele ci racconterà un po' meglio il design di questo modello. Mi presento, sono Michele, tappezieri Max Ivani e sono appassionato di belle auto. E qui, come nelle auto da corsa, a livello di design è la fiancata la parte più suggestiva. Infatti, grazie al tallo inclinato del fianco bracciolo diventa incredibilmente dinamica. Così come il bracciolo, che avvolge il piede a slitta con un effetto mantellina, sembra quasi un piccolo allettone sempre pronto ad aprirsi. Potremmo dire che Selfie è la nostra fuoriserie. Potremmo dire che non si può essere un piccolo allettone sempre pronto ad aprirsi.